Industry 4.0 nasce da un'idea che nel tempo si è maturata, anche avendo la possibilità di mettersi in contatto con le imprese, con il mondo della scuola. E quindi mi sono accorto che in effetti sul territorio c'era la necessità di vedere un po' più da vicino alcune tematiche che sono tipiche del mondo del lavoro. E quindi interessare il territorio su queste tematiche e portarle un po' in una discussione che fosse una discussione comune per poter poi stringere una sorta di network. In cosa consistiranno gli eventi che avete organizzato? Si tratta di una tavola rotonda in cui dei panelist di un certo rilievo sia del mondo universitario sia del mondo manageriale si troveranno e discuteranno proprio sulla tematica dell'industria 4.0. È una tematica che ovviamente si conosce direi ormai un po' su tutti i giornali, un po' si vede sui media, però è una tematica che probabilmente su questo territorio non è mai stato così profondamente dibattuta. E in questo caso invece diventa un momento di incontro di queste varie professionalità che daranno una sorta di indicazione su quelle che sono le problematiche che l'industria 4.0 si porta dietro. Crediamo molto nella collaborazione tra aziende e Politecnico e questa nostra volontà di collaborare sempre di più con le aziende è testimoniata da una serie di iniziative che stiamo mettendo in atto. In particolare la centralità dell'istruzione tecnica e dell'Aure STEM per lo sviluppo del territorio è un punto sul quale stiamo molto lavorando in collaborazione con Rodacciai e con le associazioni di categoria presenti sul territorio.